Cari fratelli e sorelle, San Marco, di cui celebriamo la festa oggi, con il suo Vangelo, ci ricorda che Gesù, inviato dal Padre Suo, è uscito fuori di sé ed è venuto in questo mondo non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la salvezza del mondo. Madre Liliana, in un bellissimo brano, tratto da allora di adorazione con te il misericordioso nel dono di una vita aperta all'umanità, così scrive, rivolgendosi a Gesù. Non temo le tue esigenze, le tue imprevedibili richieste, perché ti amo e credo nel tuo amore per me e so che tu vivi e ti riveli in me ogni volta che esco da me stessa, mi faccio serva di tutti, mi spendo per gli altri, mi trasformo in dono di gioia e di comunione per la mestra dell'umanità. Cari amici è tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre.